Il dottor Heraclius Gloss Quello che era, moralmente, il dottor Heraclius Gloss Era un uomo sapientissimo, il dottor Heraclius Gloss. Sebbene non fosse mai apparso presso i librai della città il minimo opuscoletto firmato da lui, tutta la cittadinanza della dottor Heraclius considerava il dottor Heraclius un uomo sapientissimo. In quel modo e in che cosa era egli dottore? Nessuno avrebbe potuto dirlo, si sapeva soltanto che suo padre e suo nonno erano stati chiamati dottori dai loro concittadini. Egli aveva ereditato il loro titolo insieme con il loro nome e i loro beni. Nella sua famiglia si era dottore di padre in figlio, come di padre in figlio ci si chiamava Heraclius Gloss. Del resto, sebbene non possedesse alcun diploma firmato e controfirmato da tutti i membri di qualche illustre facoltà, il dottore Heraclius era non di meno un uomo degnissimo e sapientissimo. Bastava vedere i quaranta ripiani carichi di libri che coprivano i quattro pannelli del suo vasto studio, perché ci si convincesse bene che mai dottore più erudito aveva onorato la città balanzonese. Infine, ogni volta che si parlava di lui davanti al signor decano o al signor rettore, si vedevano questi sorridere sempre misteriosamente. Si racconta persino che un giorno il signor rettore aveva fatto un grande elogio di lui in latino davanti a Monsignor Arcivescovo. Il testimonio che lo riferiva citava d'altronde come prova irrefutabile queste poche parole che aveva udito. Parturiumt montes, nascetur ridiculus mus. Inoltre, il signor decano e il signor rettore pranzavano a casa sua tutte le domeniche. Perciò nessuno avrebbe osato mettere in dubbio che il dottor Eraclius Gloss fosse un uomo sapientissimo. Quello che era fisicamente il dottor Eraclius Gloss. Se è vero, come pretendono certi filosofi, che c'è un'armonia perfetta tra il lato morale e l'aspetto fisico di un uomo e che si possono leggere sulle linee del volto i principali tratti del carattere, il dottor Eraclius non era fatto per dare una smentita a questa asserzione. Era piccolo, vivace e nervoso. C'era in lui qualcosa del topo, della faina e del bassotto. Vale a dire che era della famiglia dei cercatori, dei roditori, dei cacciatori e degli infaticabili. A vederlo non ci si capacitava, come tutte le dottrine che aveva studiato potessero entrare in quella testina. Ma ci si immaginava piuttosto che dovesse egli stesso penetrare nella scienza e viverci rosicchiandola come un topo in un grosso libro. Era soprattutto singolare in lui la straordinaria esidità della persona. Il suo amico decano sosteneva, forse non senza ragione, che doveva essere stato dimenticato per parecchi secoli tra le pagine di un infolio, accanto a una rosa e a una violetta, poiché era sempre azzimatissimo e profumatissimo. Il suo viso, soprattutto, era talmente a lama di rasoio che le stanghette dei suoi occhiali d'oro, sopravvanzando smisuratamente dalle tempie, facevano quasi l'effetto di una grande asta sull'albero di una nave. Se non fosse stato il sapiente dottor Heraclius, diceva talvolta il signor rettore alla facoltà di Balançon, egli sarebbe stato un eccellente tagliacarte. Portava la parrucca, si vestiva con cura, non era mai malato, amava le bestie, non detestava gli uomini e idolatrava i spiedini di quaglie. In che cosa il dottor Heraclius impiegava le dodici ore del giorno? Non appena si era alzato, insaponato, rasato e rifucillato con un panino al burro inzuppato in una tazza di cioccolata alla vaniglia, il dottore scendeva in giardino. Giardino poco vasto, come tutti quelli della città. Ma piacevole, ombroso, fiorito, silenzioso. Osserai dire meditativo. Insomma, ci si immagini quel che deve essere il giardino ideale di un filosofo alla ricerca della verità, e non si sarà lontani dal conoscere quello di cui il dottor Heraclius Gloss faceva tre o quattro volte il giro con passo spedito, prima di abbandonarsi ai quotidiani spiedini di quaglie della seconda colazione. Quel po' di moto, egli diceva, era eccellente appena scesi dal letto. Rianimava la circolazione del sangue, intorpidita dal sonno. Scacciava gli umori del cervello e preparava le vie digestive. Dopodiché il dottore faceva colazione. Poi, appena preso il caffè e lo beveva ad un fiato, senza mai abbandonarsi alle sonnolenze delle digestioni cominciate a tavola, indossava la sua grande finanziera e se ne andava. E ogni giorno, dopo essere passato davanti alla facoltà e confrontato l'ora della sua cipolla Luigi XV con quella dell'altero quadrante dell'orologio universitario, spariva nel vicolo dei Vieux Pigeons, dove usciva soltanto per tornare a casa a pranzare. Che mai faceva il dottore Heraclius Gloss nel vicolo dei Vieux Pigeons? Che vi faceva, santo cielo? Vi cercava la verità filosofica. Ed ecco come. In quel vicoletto oscuro e sporco, tutti i rivenduglioli di libri di Balançon si erano dati appuntamento. Sarebbero corsi anni per leggere soltanto i titoli di tutte le opere inimmaginabili, ammucchiate dalla cantina al solaio nelle cinquanta baracche che formavano il vicolo di Vieux Pigeons. Il dottore Heraclius Gloss considerava vicolo, case, rivenduglioli e vecchi libri come sua proprietà privata. Spesso era accaduto che qualche venditore di cianfrusaglie, sul punto di andare a letto, aveva udito un rumore nel proprio solaio e salendo in punta di piedi, armato di un gigantesco spadone dei tempi andati, aveva trovato... Il dottore Heraclius Gloss, sepolto sino a metà corpo in pile di vecchi libri, che reggeva con una mano un mozzicone di candela che gli si scioglieva tra le dita e sfogliava con l'altra un antico manoscritto, al quale sperava forse di fare scaturire la verità. E il povero dottore era assai stupito nell'apprendere che la campana della torre aveva suonato le nove da un pezzo, e che egli avrebbe consumato un pessimo pranzo. Il fatto è che cercava seriamente il dottore Heraclius. Conosceva a fondo tutte le filosofie antiche e moderne. Aveva studiato le sette dell'India e le religioni dei negri d'Africa. Non c'era tribù ancorché esigua, tra i barbari del nord o i selvaggi del sud, di cui non avesse scandagliato le credenze. Ahimè, ahimè. Quanto più studiava, cercava, rovistava, meditava, tanto più era incerto. Amico mio, egli diceva una sera al signor rettore, quanto più felici di noi sono i Colombo che si lanciano attraverso i mari alla ricerca di un nuovo mondo. Essi hanno solo da tirare dritto. Le difficoltà che li arrestano sorgono soltanto da ostacoli materiali che un uomo audace supera sempre, mentre noi, sballottati senza tregua sull'oceano delle incertezze, trascinati bruscamente da un'ipotesi come una nave dall'aquilone, ci imbattiamo all'improvviso come in un vento contrario, in una dottrina opposta, che ci conduce senza speranza al porto da cui eravamo usciti. Una notte in cui egli filosofeggiava col signor decano, egli disse Com'è giusto, amico mio, sostenere che la verità abita in un pozzo. I secchi scendono alternativamente per pescarla e riportano sempre soltanto acqua chiara. Vi lascio indovinare, aggiunse astutamente, come scrivo la parola sciocchi. Questo è il solo gioco di parole che lo si sia mai sentito fare. In che cose il dottor Heraclius Glosse impiegava alle dodici ore della notte? Quando il dottor Heraclius l'incasava la sera, era in genere molto più grosso di quanto non lo fosse nel momento in cui usciva. Il fatto è che allora ognuna delle sue tasche, e ne aveva diciotto, era imbottita di antichi libri filosofici che aveva appena comprato nel vicolo dei Vieux Pigeon. E il faceto rettore sosteneva che, se un chimico l'avesse analizzato in quel momento, avrebbe trovato che la carta vecchia entrava per due terzi nella composizione del dottore. Alle sette Heraclius Glosse si metteva a tavola, e mentre mangiava scorreva i vecchi libri di cui si era reso acquirente poc'anzi. Alle otto e mezzo il dottore si alzava con aria magistrale. Non era più allora l'arzillo e il vivace ometto che gli era stato tutto il giorno, ma il grave pensatore, nel cui fronte si piega sotto il peso delle elevate meditazioni, come un facchino sotto un fardello troppo pesante. Dopo aver lanciato alla governante un maestoso, non ci sono per nessuno, egli spariva nel suo studio. Una volta lì, si sedeva davanti alla tavola da lavoro in gombra di libri e… pensava. Che strano spettacolo, per chi avesse potuto guardare allora nella mente del dottore, sfilata mostruosa delle divinità più opposte e delle credenze più disparate, incrocio fantastico di dottrine ed ipotesi. Era come un'arena, in cui i campioni di tutte le filosofie si scontravano in un torneo gigantesco. Egli amalgamava, combinava, mescolava il vecchio spiritualismo orientale col materialismo tedesco, la morale degli apostoli con quella di Epicuro. Egli tentava combinazioni di dottrine come si provano in un laboratorio combinazioni chimiche, ma senza mai vedere ribollire alla superficie la verità tanto desiderata. E il suo buon amico rettore sosteneva che quella verità filosofica eternamente attesa la verità somigliava molto a una pietra filosofale, d'inciampo. A mezzanotte il dottore si coricava e i sogni del suo sonno erano i medesimi di quelli delle sue veglie. Come qualmente il signor decano riponeva ogni speranza nell'eclettismo, il dottore nella rivelazione e il signor rettore nella digestione. Una sera che il signor decano, il signor rettore e lui erano riuniti nel suo vasto studio, ebbero una discussione fra le più interessanti. «Mio caro», diceva il decano, «bisogna essere eclettici ed epicurai. Scegliete ciò che è buono, respingete ciò che è cattivo. La filosofia è un vasto giardino che si estende su tutta la terra. «Cogliete i fiori sgargianti dell'Oriente, le pallide fioriture del Nord, le violette dei campi e le rose dei giardini. Fatene un mazzo e odoratelo. Se il suo profumo non è il più squisito che si possa sognare, sarà almeno assai gradevole e mille volte più suave di quello di un unico fiore. Fossa anche il più odoroso del mondo». «Certamente il più variato», replicò il dottore, «ma più soave no, se riuscite a trovare il fiore che riunisce e concentra in sé tutti i profumi degli altri. Infatti, nel vostro mazzo voi non potrete impedire a certi odori di nuocersi l'un l'altro e, in filosofia, a certe credenze di contrariarsi a vicenda. «Il vero è uno, e col vostro eclettismo otterrete sempre soltanto una verità a pezzi e bocconi. Anch'io sono stato eclettico, ora sono esclusivo. Quello che voglio non è un pressapoco occasionale, ma la verità assoluta. Ogni uomo intelligente credo ne abbia il presentimento e il giorno in cui la troverà sulla propria strada esclamerà «Eccola!» Avviene lo stesso per la bellezza. Così, io, sino a venticinque anni, non ho amato. Avevo scorto molte belle donne, ma non mi dicevano niente. Per comporre l'essere ideale che intravedevo, sarebbe stato necessario prendere qualcosa a ognuna di esse. E ancorché ciò sarebbe stato simile al mazzo di cui parlavate di anzi, non si sarebbe ottenuto in questa maniera la bellezza perfetta, che non è scomponibile, come l'oro e la verità. Un giorno finalmente ho incontrato questa donna. Ho capito che quella era lei, e l'ho amata. Il dottore un po' commosso tacque, e il signor rettore sorrise astutamente, guardando il signor decano. Dopo un momento, Eraclius Gloss continuò. «Proprio nella rivelazione, dobbiamo riporre tutte le nostre speranze. È la rivelazione che ha illuminato l'Apostolo Paolo, sulla strada di Damasco, e gli ha dato la fede cristiana. Che non è la vera, interruppe rilendo il rettore, poiché voi non ci credete, e consegue che la rivelazione non è più sicura dell'eclettismo. Scusate, amico mio, ribatté il dottore, Paolo non era un filosofo, egli ha avuto una rivelazione approssimativa. Il suo spirito non avrebbe potuto cogliere la verità assoluta, che è astratta. Ma la filosofia è progredita da allora, e il giorno in cui una circostanza qualsiasi, un libro, una parola forse la rivelerà, a un uomo abbastanza illuminato da comprenderla, essa l'illuminerà all'improvviso, e tutte le superstizioni si ecclisseranno, come le stelle allo spuntar del sole. «Amen», disse il rettore. «Ma il giorno dopo avrete un secondo illuminato, un terzo due giorni dopo, ed essi si getteranno in faccia scambievolmente le loro rivelazioni, che fortunatamente non sono armi molto pericolose». «Ma allora voi non credete in nulla», esclamò il dottore, che cominciava ad adirarsi. «Credo nella digestione», rispose gravemente il rettore. «Ingoio, indifferentemente, tutte le credenze, tutti i dogmi, tutte le morali, tutte le superstizioni, tutte le ipotesi, tutte le illusioni, allo stesso modo che durante un buon pranzo mangio con egual piacere minestra, antipasti, arrosti, verdure, piatti di manzo e frutta. Dopodiché, mi stendo filosoficamente sul letto, sicuro che la mia tranquilla digestione mi procurerà un sonno piacevole per la notte, vita e salute per il giorno dopo. «Se date retta a me», si affrettò a dire il decano, «non spingeremo più oltre il confronto». Un'ora dopo, come uscivano dalla casa del sapiente Heraclius, il rettore si mise a ridere improvvisamente, e disse, «quel povero dottore! Se la verità gli appare come la donna amata, sarà davvero l'uomo più ingannato che la terra abbia mai generato!» E un ubriacone che si sforzava di rincasare si lasciò cadere dallo spavento, nell'udire il riso possente del decano, che accompagnava con tono di basso profondo il falsetto acuto del rettore. Come qualmente la strada di Damasco del dottore risultò essere il vicolo dei vie Pigeon, e come la verità lo illuminò, sotto forma di un manoscritto metempsicosista. Il 17 marzo dell'anno di grazia 1700 e tanti, il dottore si svegliò tutto febbricitante. Durante la notte aveva visto parecchie volte un sogno, un omone bianco, vestito all'antica, che gli toccava la fronte con un dito, pronunziando parole inintelleggibili, e quel sogno era sembrato al sapiente Heraclius un avvertimento molto significativo. Un avvertimento di che? In che? E in che cosa era significativo? Il dottore non lo sapeva esattamente, ma non di meno aspettava qualcosa. La po' colazione si recò, come di consueto, nel vicolo dei vie Pigeon, ed entrò, mentre suonava a mezzogiorno, al numero 31, da Nicolas Bricolet, vestiarista, mercante di mobili antichi, rivendugliolo di libri e riparatore di scarpe vecchie. Vale a dire, ciabattino, a tempo perso. Il dottore, come mosso da un'ispirazione, salì immediatamente in solaio, mise la mano sul terzo palchetto d'un armadio Luigi XIII e ne estrasse un voluminoso manoscritto di pergamena intitolato Le mie diciotto metempsicosi, storia delle mie esistenze dall'anno 184 dell'era chiamata cristiana. Subito dopo quel titolo singolare, c'era la seguente introduzione che Eraclius Gloss decifrò immantinente. Questo manoscritto, che contiene il racconto fedele delle mie trasmigrazioni, è stato da me cominciato nell'urbe l'anno 184 dell'era cristiana, come è detto qui sopra. Firmo questa spiegazione destinata a illuminare gli umani sull'alternarsi delle riappalizioni dell'anima in questo 16 aprile 1748 nella città di Balançon dove mi hanno gettato le vicissitudini del mio destino. Basterà a ogni uomo illuminato e preoccupato da problemi filosofici dare una scorsa a queste pagine perché la luce si faccia in lui nella maniera più fulgida. Per questo riassumerò in poche righe la sostanza della mia storia che si potrà leggere più sotto per quanto poco si conosca il latino. il greco, il tedesco, l'italiano, lo spagnolo e il francese. Perché, in differenti tempi delle mie riappalizioni umane, ho vissuto presso questi diversi popoli. Poi spiegherò per quale concatenamento di idee, per quali precauzioni psicologiche e per quali mezzi mnemotecnici sono arrivato infallibilmente a conclusioni metempsicosiste. Nell'anno 184 abitavo a Roma ed ero filosofo. Un giorno, mentre passeggiavo sulla via Appia, mi venne in mente che Pitagora poteva essere stato come l'alba, ancora incerte, d'un gran giorno prossimo a nascere. Da quel momento ebbi ormai un solo desiderio, un solo scopo, una sola preoccupazione costante. Ricordarmi del mio passato. Ahimè, tutti i miei sforzi furono vani. Non rammentavo nulla delle esistenze anteriori. Ora, un giorno, vidi per caso, sul piedistallo di una statua di Giove collocata nel mio atrio, alcuni tratti che avevo inciso in gioventù e che mi ricordarono improvvisamente un avvenimento dimenticato da lungo tempo. Fu come un raggio di luce e capì che se alcuni anni, talvolta persino una notte, bastano a cancellare un ricordo, a maggior ragione, le cose compiute nelle esistenze anteriori e sulle quali è passata la grande sonnolenza delle vite intermediarie e animali devono sparire dalla nostra memoria. Allora, incisi la mia storia su alcune tavolette di pietra, sperando che forse un giorno il destino me l'avrebbe rimessa sotto gli occhi e che essa sarebbe stata per me come la scrittura ritrovata sul piadistallo della mia statua. Quello che avevo desiderato si avverò un secolo dopo, siccome ero architetto, fu incaricato di demolire una vecchia casa per edificare un palazzo sul posto che essa aveva occupato. Gli operai che io dirigevo mi portarono un giorno una pietra spezzata coperta di scrittura che avevano trovato scavando le fondamenta. Mi misse a decifrarla e mentre leggevo la vita di colui che aveva tracciato quei segni a tratti mi tornavano alla mente come dei barlumi rapidi di un passato dimenticato. A poco a poco si fece luce nella mia anima compresi mi rammentai quella pietra ero stato io a inciderla. Durante quell'intervallo di un secolo che cosa avevo fatto? Che cosa ero stato? Sotto quale forma avevo sofferto? Nulla poteva farmelo sapere. Un giorno tuttavia ebbe un indizio ma così debole e così nebuloso che non oserei citarlo. Un vecchio che era mio vicino mi raccontò che si era molto riso a Roma cinquant'anni prima esattamente nove mesi prima della mia nascita di un'avventura accaduta al senatore Marco Antonio Cornelio Lipa. Sua moglie che era bella e dicono corrottissima aveva comprato da alcuni mercanti fenici uno scimmione che la amava molto. Il senatore Cornelio Lipa fu geloso dell'affetto della sua metà per quel quadrumene dalla faccia d'uomo e lo uccise. Nell'ascoltare questa storia ebbi una vaghissima percezione che quella scimmia ero io che sotto questa forma avevo a lungo sofferto come del ricordo di uno svilimento ma non trovai nulla di ben chiaro e di ben preciso tuttavia fui portato a enunciare questa ipotesi che è perlomeno assai verosimile. La forma animale è una penitenza imposta all'anima per colpe commesse sotto la forma umana. Il ricordo delle sue esistenze superiori è dato alla bestia per castigarla col sentimento del suo svilimento. solo l'anima purificata dalla sofferenza può riprendere la forma umana. Essa perde allora tutto il ricordo dei periodi animali che ha attraversato poiché è rigenerata e quella consapevolezza sarebbe per lei una sofferenza immeritata. Perciò l'uomo deve proteggere e rispettare la bestia come si rispetta un colpevole che è spia e perché altri lo proteggano a sua volta quando egli riapparirà sotto quella forma. Il che corrisponde pressapoco alla formula della morale cristiana non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Si vedrà dal racconto delle mie metempsicosi come ebbi la fortuna di ritrovare le mie memorie in ciascuna delle mie esistenze come trascrissi di nuovo questa storia su altre tavolette di bronzo poi su papiro d'Egitto e infine molto più tardi sulla pergamena tedesca di cui mi servo ancora oggi. Mi resta da trarre la conclusione filosofica di questa dottrina. Tutte le filosofie si sono arrestate di fronte all'insolubile problema del destino dell'anima. I dogmi cristiani che prevalgono oggi insegnano che Dio riunirà i giusti in un paradiso e manderà e manderà i malvagi all'inferno dove bruceranno insieme col diavolo. Ma il buon senso moderno non crede più a un Dio dal volto di patriarca che protegge sotto le sue ali le anime dei buoni come una chioccia ai suoi pulcini e inoltre la ragione confuta i dogmi cristiani. Il paradiso infatti non può essere in nessun luogo e l'inferno in nessun luogo poiché lo spazio illimitato è popolato di mondi simili al nostro poiché moltiplicando le generazioni che si sono avvicendate dall'inizio di questa terra per quelle che hanno pullulato sugli innumerevoli mondi abitati come il nostro si arriverebbe a un numero di anime talmente sovrannaturale e impossibile essendo infinito il moltiplicatore che Dio infallibilmente mi perderebbe la testa per quanto solida essa fosse e il diavolo sarebbe nella stessa condizione il che produrrebbe una perturbazione spiacevole poiché essendo infinito il numero delle anime dei giusti come il numero delle anime dei malvagi e come lo spazio occorrerebbe un paradiso infinito e un inferno infinito dal che risulta questo che il paradiso sarebbe dappertutto e l'inferno dappertutto vale a dire in nessun luogo ora la ragione non contraddice la credenza metempsicosista l'anima passando dal serpente al porcello dal porcello all'uccello dall'uccello al cane arriva infine alla scimmia e all'uomo poi ricomincia sempre a ogni nuova colpa commessa sino al momento in cui essa raggiunge la somma della purificazione terrestre che la fa emigrare in un mondo superiore così essa passa senza posa da bestia in bestia di sfera in sfera andando dal più imperfetto al più perfetto per arrivare infine nel pianeta della felicità suprema dove un nuovo fallo può nuovamente precipitarla nelle regioni della suprema sofferenza dove essa ricomincia le sue trasmigrazioni il circolo figura universale e fatale racchiude dunque le vicessitudini delle nostre vite così come governa le evoluzioni dei mondi come qualmente si può interpretare in due maniere un verso di corneil non appena ebbe terminato la lettura di quello strano documento il dottor eraclius rimase impalato per lo stupore poi lo comprò senza mercanteggiare mediante la somma di 12 lire e 11 soldi dato che il riva in dugliolo lo faceva passare per un manoscritto ebraico ritrovato negli scavi di pompei per quattro giorni e quattro notti il dottore non uscì dallo studio e pervenne a forza di pazienza e di dizionari a decifrare alla meglio i periodi tedesco e spagnuolo del manoscritto perché seppur sapeva il greco e latino e un po' d'italiano ignorava quasi totalmente il tedesco e lo spagnuolo infine temendo ad essere incappato nei controsensi più grossolani pregò l'amico rettore che possedeva a fondo quelle due lingue di aver la bontà di rileggere la sua traduzione quest'ultimo lo fece con gran piacere ma gli ci vollero tre giorni interi prima di poter intraprendere seriamente il lavoro essendo assalito ogni volta che scorreva la versione del dottore da una risata così lunga e così violenta che per due volte gli vennero quasi delle sincopi siccome gli domandavano la causa di quella straordinaria ilarità la causa rispose prima di tutto ve ne sono tre la faccia esilarante del mio eccellente collega eraclius la sua esilarante traduzione che assomiglia al testo approssimativamente quanto una chitarra a un mulino a vento e terza infine lo stesso testo che è davvero la cosa più buffa che sia possibile immaginare oh rettore ostinato nulla potrei convincerlo se il sole fosse venuto in persona a bruciargli la barba e i capelli egli l'avrebbe preso per una candela quanto al dottore l'aclius glos non ho bisogno di dire che era raggiante illuminato trasformato ripeteva a ogni momento come paulina vedo sento credo mi sono disingannato e ogni volta il rettore l'interrompeva per far notare che sarebbe stato meglio dire vedo sento credo mi sono ingannato come qualmente per la stessa ragione per la quale si può essere più realisti del re e più devoti del papa si può ugualmente diventare più metempsicosisti di pitagora qualunque sia la gioia del naufrago che dopo aver errato per lunghi giorni e lunghe notti sul mare immenso sperduto su una fragile zattera senza albero senza vela senza bussole senza speranza scorge all'improvviso il lido tanto desiderato questa gioia non era nulla in confronto a quella che invalse il dottore eraclius glos allorché dopo essere stato così a lungo sballottato dai marosi delle filosofie sulla zattera delle incertezze finalmente entrò trionfante illuminato nel porto della metempsicosi la verità di questa dottrina l'aveva così fortemente colpito che gli l'abbracciò in un sol tratto sino alle sue più estreme conseguenze in essa nulla era oscuro per lui e in pochi giorni a forza di meditazioni di calcoli era giunto a fissare il periodo esatto in cui un uomo morto in tal anno sarebbe riapparso sulla terra egli sapeva con grande approssimazione la data di tutte le trasmigrazioni di un'anima negli esseri inferiori e secondo la somma presunta del bene o del male compiuto nell'ultimo periodo della vita umana poteva fissare il momento in cui quell'anima sarebbe entrata nel corpo di un serpente d'un porco d'un cavallo da somma d'un bove d'un cane d'un elefante o di una scimmia le riapparizioni d'una stessa anima nel suo involucro superiore si susseguivano a intervalli regolari quali che fossero state le sue colpe anteriori così il grado di punizione sempre proporzionato al grado di colpevolezza consisteva non già nella durata più o meno lunga dell'esilio sotto forme animali ma nel soggiorno più o meno prolungato che quell'anima faceva nella pelle di una bestia immonda la scala delle bestie cominciava nei gradi inferiori dal serpente o dal porcello per finire con la scimmia che è un uomo privo di favella diceva il dottore al che il suo eccellente amico rettore rispondeva sempre che in virtù del medesimo ragionamento eraclius glos altro non era se non una scimmia dotata di favella medaglie e loro rovescio il dottore eraclius fu davvero beato durante i primi giorni che seguirono la sua sorprendente scoperta viveva in un profondo giubilo era tutto raggiante per le difficoltà vinte per i misteri svelati per le grandi speranze avveratisi la metempsicosi lo circondava come un cielo e sembrava che un velo si fosse squarciato improvvisamente e che i suoi occhi si fossero aperti alle cose sconosciute faceva sedere a tavola il suo cane accanto a sé aveva con lui dei seri colloqui a quattro occhi davanti al caminetto cercando di cogliere nello sguardo dell'innocente bestia il mistero delle esistenze precedenti eppure notava due punti neri nella propria felicità questi erano il signor decano e il signor rettore il decano alzava le spalle furiosamente tutte le volte che eraclius tentava di convertirlo alla dottrina metempsicosista e il rettore lo bersagliava con le più inopportune facezie soprattutto questo era intollerabile non appena il dottore sviluppava il suo credo il satanico rettore si schierava smoderatamente dalla sua parte contraffaceva l'adepto che ascolta la parola di un grande apostolo e immaginava per tutte le persone della loro cerchia le genealogie animali più inverosimili così egli diceva il vecchio labond campanaro della cattedrale sin dalla sua prima trasmigrazione altro non doveva essere stato se non un popone e del resto dopo era poco cambiato contentandosi di far sonare mattina e sera la campana sotto la quale era cresciuto egli sosteneva che la mate rosa in crua primo vicario di santa eulalia era stato indubbiamente una cornacchia poiché ne aveva conservato la veste e le prerogative poi invertendo le parti in maniera deplorevolissima affermava che messerba Kyle il farmacista altro non era se non nibis degenerato poiché era costretto a servirsi di uno strumento per introdurre quel rimedio così semplice che secondo erodoto l'uccello sacro si somministrava da solo con l'unico ausilio del suo lungo becco come qualmente un salto in banco può essere più furbo di un sapiente dottore il dottore Raclius continuò non di meno senza scoraggiarsi la serie delle sue scoperte ogni animale aveva ormai per lui un significato misterioso egli cessava di vedere la bestia per contemplare soltanto l'uomo che si purificava sotto quella scorza e indovinava le colpe passate dal semplice aspetto della pelle spiatoria un giorno che egli passeggiava nella piazza di Balanson scorse un baraccone di legno per quale uscivano urli terribili mentre sul palco un pagliaccio snodato invitava la folla ad entrare e veder lavorare il terribile domatore Apache Tomahawk ovvero fulmine tonante Eraclius si sentì commosso pagò i dieci centesimi richiesti ed entrò oh fortuna protettrice dei grandi spiriti era appena penetrato nella baracca quando scorse un'enorme gabbia sulla quale erano scritte queste tre parole che fiammeggiarono di botto davanti ai suoi occhi abbacinati uomo delle selve il dottore fu preso improvvisamente dal tremito nervoso delle grandi scosse morali e vacillante per la commozione s'avvicinò vide allora una scimmia gigantesca tranquillamente seduta sul suo posteriore le gambe incrociate alla maniera dei sarti e dei turchi e davanti a quello splendido campione d'uomo alla sua ultima trasmigrazione eraclius glos pallido di gioia profondò in una meditazione possente dopo alcuni minuti l'uomo delle selve indovinando senza dubbio l'irresistibile simpatia repentinamente sbocciata sul cuore dell'uomo della città che lo osservava ostinatamente si mise a fare al fratello rigenerato una smorfia così spaventosa che il dottore si sentì i capelli drizzarsi sulla testa poi dopo aver eseguito un volteggio fantastico assolutamente incompatibile con la dignità ad un uomo si è pure assolutamente decaduto il cittadino a quattro mani si abbandonò alla più sconveniente ilarità alla barba del dottore quest'ultimo tuttavia non giudicò per nulla urtante la gaiezza di quella vittima di antichi errori vivide anzi una similitudine di più con la specie umana una maggiore probabilità di parentela e la sua curiosità scientifica divenne talmente violenta che gli risolse di comprare a ogni costo quel maestro di smorfie per studiarlo a suo piacimento quale onore per lui quale trionfo per la grande dottrina che gli arrivava finalmente a mettersi a contatto con la parte animale dell'umanità a capire quella povera scimmia e a farsi intendere da essa naturalmente il padrone del serraglio gli fece il massimo elogio del suo ospite e trattava davvero del più intelligente del più mite del più gentile del più amabile animale che avesse visto sulla sua lunga carriera di presentatore di bestie feroci e per incalzare la sua affermazione si avvicinò alle sbarre e vi introdusse la mano che la scimmia morse subito a guisa di scherzo com'è anche naturale egli ne chiese un prezzo favoloso che eraclius pagò senza mercanteggiare poi preceduto da due facchini curvi sotto l'enorme gabbia il dottore trionfante si diresse verso il proprio domicilio dove è dimostrato che eraclius glos non era affatto esente da tutte le debolezze del sesso forte ma quanto più si avvicinava a casa tanto più rallentava il passo perché rimuginava nella testa un problema ben più difficile ancora di quello della verità filosofica e questo problema si formulava così per lo sventurato dottore per mezzo di quale sotterfugio potrò nascondere alla mia buona onorin l'introduzione sotto il mio tetto di questo abbozzo umano ah il fatto è che il povero eraclius il quale affrontava intrepidamente le temibili spallucciate del signor decano e le terribili facezie del signor rettore era lungi dall'essere altrettanto coraggioso davanti alle esplosioni della buona onorin perché dunque il dottore temeva così fortemente quella donnina ancora fresca e carina che sembrava così pronta e così dedita agli interessi del suo padrone perché domandate perché ercole filava ai piedi di onfale perché sansone lasciò che dalida gli rapisse la forza e il coraggio che risiedevano nei suoi capelli secondo quanto ci informa la bibbia ahimè un giorno in cui il dottore portava a spasso per i campi la disperazione di una grande passione tradita infatti non senza ragione il signor decano e il signor rettore si erano tanto divertiti alle spalle di eraclius una certa sera mentre l'incasavano e incontrò accanto a una siepe una fanciulla che pascolava le pecore lo scienziato che non aveva sempre esclusivamente cercato la verità filosofica e che d'altronde non immaginava ancora il grande mistero della metempsicosi invece di occuparsi soltanto delle pecore come certamente avrebbe fatto se avesse saputo ciò che ignorava ahimè si mise a discorrere con colei che le pascolava ben presto la presa al proprio servizio e una prima debolezza autorizzò le successive in breve tempo fu lui che divenne la pecore di quella pastorella e si sussurrava che se come quella della bibbia questa dalida rustica aveva tagliato i capelli del pover uomo troppo fiducioso e la non aveva affatto privato per questo la sua fronte di ogni ornamento ahimè ciò che gli aveva previsto si avverò e anche oltre i propri timori non appena ebbe visto l'abitante delle selve prigioniero nella casa di fil di ferro onorin si abbandonò a scoppi di sconvenientissimo furore e dopo aver tempestato il padrone impaurito di un diluvio di epiteti assai indecorosi ella fece ricadere la sua collera sull'ospite inatteso che le si presentava ma quest'ultimo non avendo probabilmente le medesime ragioni del dottore per usare dei riguardi a una governante così screanzata si mise a gridare a urlare a scalpitare a digrignare i denti si aggrappava alle sbarre della sua prigione con un'ira tanto furibonda accompagnata da gesti talmente indiscreti verso una persona che vedeva per la prima volta che costei dovette battere in ritirata e andare come un guerriero sconfitto a rinchiudersi in cucina così padrone del campo di battaglia e deato del soccorso inatteso che il suo intelligente compagno gli aveva prestato eraclius lo fece trasportare nello studio dove collocò la gabbia e il suo abitante davanti alla sua tavola accanto al fuoco come qualmente domatore e dottore non sono per nulla sinonimi ebbe inizio allora uno scambio delle più significative occhiate tra i due individui che si trovavano di fronte e ogni giorno per un'intera settimana il dottore passò lunghe ore a conversare per mezzo degli occhi per lo meno così credeva con l'interessante soggetto che si era procurato ma questo non bastava eraclius voleva soprattutto studiare l'animale in libertà sorprendere i suoi segreti i suoi desideri i suoi pensieri lasciarlo andare e venire a sua guisa e con la frequentazione giornaliera della vita intima vederlo riacquistare le abitudini dimenticate e riconoscere così da indizi sicuri il ricordo dell'esistenza precedente ma per questo occorreva che il suo ospite fosse libero e pertanto che la gabbia fosse aperta ora quest'impresa era tutt'altro che l'assicurante il dottore aveva un bel tentare con l'influsso magnetico o con quello dei dolci e delle noci il quadrumane si abbandonava a manovre inquietanti agli occhi di eraclius ogni volta che costui si avvicinava un po' troppo alle sbarre un giorno infine non potendo resistere al desiderio che lo torturava si fece avanti repentinamente girò la chiave del lucchetto spalancò la porta e palpitante d'ansia si allontanò di qualche passo aspettando l'avvenimento che del resto non si fece attendere a lungo la scimmia stupita da prima esitò poi con un balzo fu fu fuori con un altro sulla tavola dove in meno di un secondo scompigliò le carte e i libri poi con un terzo salto si trovò nelle braccia del dottore e le testimonianze del suo affetto furono tanto violente che se eraclius non avesse portato la parrucca i suoi ultimi capelli sarebbero sicuramente restati tra le dita del suo terribile fratello ma se la scimmia era agile il dottore non lo era meno balzò a destra poi a sinistra scivolò come un'anguilla sotto la tavola scavalcò le poltrone come un levriere e sempre inseguito raggiunse finalmente la porta che chiuse bruscamente dietro di sé allora trafelato come un cavallo da corsa che raggiunge il traguardo s'appoggiò contro il muro per non cadere per il resto del giorno eraclius glos fu annientato provava dentro di sé come un crollo ma più di ogni altra cosa lo preoccupava il fatto di ignorare assolutamente in qual maniera il suo ospite sconsiderato e lui stesso sarebbero potuti uscire dalle rispettive posizioni portò una sedia accanto alla porta invarcabile e si servì del buco della serratura come osservatorio allora egli vide oh prodigio oh felicità insperata il vincitore beato straiato su una poltrona e si scaldava i piedi al fuoco nel primo impeto di gioia il dottore fu lì per entrare ma la riflessione lo trattenne e come illuminato da una luce subitanea chi disse che la fame avrebbe probabilmente fatto quello che non aveva potuto fare la dolcezza questa volta gli eventi gli diedero ragione la scimmia affamata capitolò siccome in fondo si trattava di una buona diavola di scimmia la riconciliazione fu completa e da quel giorno in poi il dottore e lei vissero come due vecchi amici come qualmente il dottore eraclius glos si trovò esattamente nella stessa condizione del buon re enrico iv il quale avendo udito la ringa di due grandi avvocati stimava che entrambi avessero ragione qualche tempo dopo quel giorno memorabile una pioggia violenta impedì al dottore eraclius di scendere in giardino come era solito fare sin dal mattino si sedette nello studio e si mise a considerare filosoficamente la sua scimmia che appollaiata su una scrivania si divertiva a lanciare palline di carta al cane pitagora sdraiato davanti al focolare il dottore studiava le gradazioni e la progressione dell'intelletto in quegli uomini degradati e paragonava il grado di acume dei due animali che si trovavano in sua presenza nel cane diceva tra sé l'istinto domina ancora mentre nella scimmia prevale il ragionamento l'uno annusa ascolta e percepisce con i suoi meravigliosi organi che risiedono per metà nella sua intelligenza l'altro concerta e riflette a questo punto la scimmia spazientita dall'indifferenza dall'immobilità del suo nemico che accucciato tranquillamente la testa sulle zampe si concentrava ad alzare gli occhi di tanto in tanto sul suo aggressore trincerato così in alto si risolse ad andare a tentare una ricognizione saltò leggermente dal mobile e avanzò così piano così piano che nient'altro si udiva se non il crepitio del fuoco e il tic tac della pendola che sembrava fare un rumore enorme nel grande silenzio dello studio poi con un movimento brusco e inatteso afferrò con due mani la coda appennacchiuta dello sventurato Pitagora ma quest'ultimo sempre immobile aveva seguito ogni movimento del quadrumane la sua tranquillità era soltanto un tranello per attirare alla sua portata l'avversario sino ad allora inattaccabile e nel momento in cui la monna scimmia contenta del suo tiro gli afferrava l'appendice caudale si rialzò ad un balzo e prima che l'altra avesse avuto il tempo di darsi alla fuga aveva afferrato nelle sue forti fauci di cane da caccia la parte della sua rivale che è chiamata pudicamente Cosciotto nei montoni non si sa come la lotta sarebbe terminata se Eraclius non si fosse intromesso ma quando ebbe stabilito la pace egli si domandava nel risedersi tutto ansimante se tutto ben considerato il suo cane non avesse dimostrato in quell'occasione più furberia dell'animale chiamato furbo per eccellenza e rimase immerso in una profonda riflessione come Eraclius fu sul punto di mangiare uno spiedino di belle dame del tempo andato siccome era giunta l'ora della colazione il dottore entrò nella stanza da pranzo si sedette a tavola si infilò il tovagliolo nella finanziera aprì accanto a sé il prezioso manoscritto e si accingeva a portare alla bocca la punta ad un'ala di quaglia che l'assoccia ben profumata quando gettando gli occhi sul libro santo le poche righe sulle quali cadde il suo sguardo scintillarono davanti a lui più terribilmente delle tre famose parole scritte all'improvviso da una mano ignota sul muro della sala dei festini di un celebre re chiamato Baldassarre ecco ciò che il dottore aveva scorto astienti dunque da ogni cibo che abbia avuto vita perché mangiare carne di bestia significa mangiare il proprio simile e stimo altrettanto colpevole colui che convinto della grande verità metempsicosista uccide e divora animali che altro non sono se non uomini nelle loro forme inferiori quanto il feroce antropofogo che si pasce del suo nemico vinto e sulla tavola a fianco a fianco trattenute da uno schidioncino d'argento una mezza dozzina di quaglie fresche e grassottelle esalavano nell'aria il loro odore appetitoso terribile fu la lotta tra lo spirito e il ventre ma diciamo la gloria di eraclius essa fu breve il pover uomo annientato temendo di non essere resistente a lungo a quella spaventosa tentazione sonò per chiamare la domestica e con voce rotta le ingiunse di portare via immediatamente quella vivanda abominevole e di servirgli d'ora in poi soltanto uova latte e verdura poco mancò che onorin non cadesse rovescioni nell'udire quelle stupefacenti parole voleva protestare ma davanti allo sguardo inflessibile del padrone scappò via con i volatili condannati consolandosi non di meno alla piacevole idea che in genere ciò che è perduto per uno non è perduto per tutti quaglie quaglie che mai potevano essere state le quaglie in un'altra vita si domandava il misero eraclius mangiando tristemente uno stupendo cavolfiore alla crema che gli padre quel giorno disastrosamente cattivo quale creatura umana aveva potuto essere abbastanza elegante delicata e fine da passare nel corpo di quelle squisite bestiole così vezzose e leggiadre ah certamente potevano essere soltanto le adorabili donne galanti dei secoli scorsi e il dottore impallidì ancora pensando che da più di trent'anni aveva ogni giorno divorato a colazione una mezza dozzina di belle dame del tempo andato come il signor rettore interpreta i comandamenti di dio la sera di quel disgraziato giorno il signor decano e il signor rettore andarono a conversare per un'ora o due nello studio di eraclius il dottore raccontò subito loro l'imbarazzo nel quale si trovava e dimostrò loro come le quaglie e altri animali commestibili fossero diventati tanto proibiti per lui quanto il prosciutto per un ebreo il signor decano che probabilmente aveva pranzato male perse allora ogni ritegno e bestemmiò in maniera così terribile che il povero dottore che lo rispettava molto pur deplorando il suo accecamento non sapeva più dove nascondersi quanto al signor rettore egli approvò pienamente gli scrupoli di eraclius facendogli persino presente che un discepolo di pitagora che si nutrisse della carne di animali poteva correre il rischio di mangiare la costola del proprio padre ai funghi o i piedi trifolati del proprio avo il che è assolutamente contrario allo spirito di qualsiasi religione e gli citò a sostegno delle sue parole il quarto comandamento del dio dei cristiani tuo padre e tua madre onorerai se vivere a lungo vorrai è vero aggiunse che io che non sono un credente piuttosto che lasciarmi morire di fame preferirei cambiare leggermente il precetto divino o anche sostituirlo con questo padre e madre divorerai se vivere a lungo vorrai come la quarantaduesima lettura del manoscritto dettò una luce nuova nello spirito del dottore come un uomo ricco può attingere ogni giorno dal suo grande patrimonio nuovi piaceri e soddisfazioni nuove così il dottore eraclius proprietario dell'inestimabile manoscritto vi faceva stupefacenti scoperte ogni volta che lo rileggeva una sera come si accingeva a terminare la quarantaduesima lettura di quel documento una subitanea illuminazione si abattè su di lui rapida come la folgore come abbiamo visto precedentemente il dottore poteva sapere con grande approssimazione a che momento un uomo scomparso avrebbe compiuto le sue trasmigrazioni e sarebbe riapparso sotto la primitiva forma perciò fu improvvisamente fulminato dal pensiero che l'autore del manoscritto poteva aver riconquistato il suo posto fra gli uomini allora è un fervorato come un alchimista che si crede sul punto di trovare la pietra filosofale e gli si abbandonò ai calcoli più minuziosi per stabilire la probabilità di questa supposizione e dopo parecchie ore di lavoro pertinace e di sapienti combinazioni metempsicosiste arrivò a convincerci che quell'uomo doveva essere suo contemporaneo o perlomeno sul punto di rinascere la vita raziocinante eraclius in effetto non possedendo nessun documento dato a indicargli la data precisa della morte del grande metempsicosista non poteva stabilire in maniera certa il momento del suo ritorno non appena ebbe intravisto la possibilità di ritrovare questo essere che per lui era più che un uomo più che un filosofo quasi più che un dio egli sentì una di quelle commozioni profonde che si provano quando si apprende improvvisamente che un padre che si credeva morto da anni è vivo è vicino a noi il santo Anacoreta che ha passato la vita a nutrirsi dell'amore e del ricordo di Cristo comprendendo repentinamente che il suo dio è sul punto di apparirgli non sarebbe stato più sconvolto di quanto lo fu il dottore Eraclius Gloss quando ebbe accertato che un giorno poteva incontrare l'autore del suo manoscritto quel che fece il dottore Eraclius Gloss per ritrovare l'autore del manoscritto alcuni giorni dopo i lettori della stella di Balançon scorsero con stupore nella quarta pagina di quel giornale il seguente avviso Pitagora Roma nell'anno 184 memoria ritrovata sul piedistallo di una statua di Giove filosofo architetto soldato agricoltore monaco geometra medico poeta marinaio eccetera medita e rammenta il racconto della tua vita è nelle mie mani scrivere fermo posta a Balançon alle iniziali HG il dottore era certo che se l'uomo che gli desiderava tanto ardentemente avesse per caso letto quell'avviso incomprensibile per chiunque altro ne avrebbe subito afferrato il senso nascosto e si sarebbe presentato a lui allora ogni giorno prima di mettersi a tavola andava a chiedere all'ufficio postale se non avessero ricevuto lettere alle iniziali HG e nel momento in cui spingeva la porta sulla quale erano scritte queste parole posta informazioni a francature era certamente più turbato che un innamorato sul punto di aprire il primo biglietto della donna amata ahimè i giorni si succedevano e si somigliavano disperatamente l'impiegato dava ogni mattina la stessa risposta al dottore e ogni mattina questi l'incasava più triste e più scoraggiato ora il popolo di Balanson che era come tutti i popoli della terra sagace indiscreto maldicente e avido di notizia non tardò a collegare lo strano avviso inserto sulla stella con le quotidiane visite del dottore all'amministrazione delle poste allora si domandò quale mistero lui potesse essere nascosto e cominciò a mormorare nella quale il dottore Heraclius riconosce con stupore l'autore del manoscritto una notte siccome non poteva dormire il dottore si alzò tra l'una e le due del mattino per andare a rileggere un brano che gli pensava di non avere ancora capito molto bene si infilò le ciabatte e aprì la porta di camera più piano che poté per non turbare il sonno di tutte le categorie e di uomini animali che espiavano sotto il suo tetto ora qualunque fossero state le condizioni precedenti di quelle bestie felici certamente esse non avevano mai goduto d'una tranquillità e d'una felicità così perfette poiché esse trovavano in quella casa ospitale buon desinale buon alloggio e anche il resto tanto compassionevole era il cuore dell'eccellente uomo e gli giunse sempre senza fare il minimo rumore sino alla soglia del suo studio ed entrò ah eraclius era di certo coraggioso non temeva né i fantasmi né le apparizioni ma qualunque sia l'intrepidezza di un uomo vi sono degli spaventi che trapassano come palle di cannone i coraggi più indomiti e il dottore rimase in piedi livido atterrito con gli occhi stralunati capelli ritti sul cranio battendo i denti e scosso dalla testa ai piedi da uno spaventoso tremito davanti all'incomprensibile spettacolo che si offria ai suoi occhi il suo lume era acceso sulla tavola e davanti al fuoco con le spalle rivolte alla porta dalla quale egli entrava vide il dottore eraclius glos che leggeva attentamente il suo manoscritto non vi era possibilità di dubbio si trattava proprio di lui stesso aveva sulle spalle la sua lunga veste da camera di seta antica a grandi fiorami rossi e sulla testa la sua papalina di velluto nero con ricami d'oro il dottore comprese che se quell'altro lui si fosse voltato se i due eraclius si fossero guardati faccia a faccia quello che in questo momento tremava nella sua pelle sarebbe caduto fulminato davanti alla propria riproduzione ma allora colto da uno spasmo nervoso aprì le mani e il candeliere che leggeva ruzzolò con rumore sull'impiantito quel fracasso gli fece fare un balzo terribile l'altro si voltò improvvisamente e il dottore sbigottito riconobbe la sua scimmia per alcuni secondi gli idee gli turbinarono nel cervello come foglie secche trascinate via dall'uragano poi fu invaso all'improvviso dalla gioia più impetuosa che mai avesse provato perché aveva capito che quell'autore atteso desiderato come il messia degli ebrei era davanti a lui era la sua scimmia si precipitò quasi pazzo di felicità afferrò fra le braccia la creatura venerata e la baciò con tale frenesia che mai amante adorata non fu baciata più appassionatamente dal proprio amante poi egli si sedette di fronte ad essa dall'altro lato del caminetto e sino al mattino la contemplò religiosamente come il dottore si trovò nella più terribile alternativa ma come i più bei giorni dell'estate sono talvolta bruscamente turbati da un pauroso temporale così la felicità del dottore fu improvvisamente attraversata dalla più spaventosa suggestione aveva bensì ritrovato colui che cercava ma ahimè era soltanto una scimmia si capivano senza alcun dubbio ma non potevano parlarsi il dottore ripiombò dal cielo sulla terra addio lunghi colloqui dei quali sperava trarre tanto profitto addio bella crociata contro la superstizione che dovevano intraprendere insieme infatti da sé solo il dottore non possedeva le armi sufficienti per abbattere l'idra dell'ignoranza gli occorreva un uomo un apostolo un confessore un martire parti che ahimè una scimmia era incapace di addempire che fare una voce terribile gli gridò nell'orecchio ammazzalo Heraclius rabbrividì in un secondo calcolò che se l'ammazzava l'anima liberata sarebbe immediatamente entrata nel corpo di un bambino nascituro che occorreva lasciargli almeno vent'anni perché raggiungesse la maturità il dottore avrebbe avuto allora settant'anni tuttavia questo era possibile ma allora avrebbe ritrovato quell'uomo poi la sua religione vietava di sopprimere qualsiasi creatura vivente sotto pena di commettere un assassino e la sua anima di lui Heraclius sarebbe passata dopo la sua morte nel corpo di una bestia feroce come succedeva per gli assassini che importa egli sarebbe stato vittima della scienza e della fede afferrò una grande scimitarra turca appesa a una panoplia e si accingeva a colpire come Abramo sulla montagna quando una riflessione gli fermò il braccio se l'espiazione di quell'uomo non fosse terminata e se invece di passare nel corpo di un bambino la sua anima tornasse per la seconda volta in quello di una scimmia questo era possibile anche verosimile quasi certo commettendo in tal modo un delitto inutile il dottore si votava senza vantaggio per i suoi simili a un terribile castigo ricade inerte sulla sedia quelle commozioni ripetute l'avevano esaurito e svenne nel quale il dottore ha una breve conversazione con la sua governante quando egli riaprì gli occhi la sua governante onorì gli inumidiva le tempie con l'aceto erano le sette del mattino il primo pensiero del dottore fu per la scimmia l'animale era scomparso la mia scimmia dov'è la mia scimmia esclamò ah giusto parliamone ribatte la serva patrona sempre pronta ad andare in collera che grosso guaio se fosse perduta bella bestia davvero imita tutto quello che vede fare al signore non l'ho forse trovata l'altro giorno che si metteva ai vostri stivali poi stamattina quando vi ho raccolto là ed io sa che i maledetti idee vi ronzano per il capo da un po' di tempo e vi impediscono di restarvene a letto quell'animalaccio che è piuttosto un diavolo nella pelle di una scimmia non si era forse messo la vostra papalina e la vostra veste da camera e aveva l'aria di ridere guardandovi come se fosse tanto divertente vedere un uomo svenuto poi quando ho voluto avvicinarmi quella canaglia mi si butta addosso come se volesse mangiarmi ma grazie a dio non siamo timidi e abbiamo ancora il polso buono ho preso la pala e gliene ho date tante su quella schienaccia che se è scappata nella vostra camera dove ne deve star facendo ancora una delle sue avete picchiato la mia scimmia urlò il dottore esasperato sappiate signorina chiedere innanzi intendo che sia rispettata e che sia servita come la padrona di questa casa ah questo sì non è soltanto la padrona di casa ma ormai è già da un pezzo la padrona del padrone borbotò uno lì e si ritirò in cucina convinta che il dottore Eraclius Gloss fosse indiscutibilmente matto come è dimostrato che basta un amico teneramente amato per alleviare il peso dei maggiori dispiaceri come il dottore aveva detto da quel giorno in poi la scimmia divenne veramente la padrona della casa e Eraclius divenne l'umile servitore di quel nobile animale lo contemplava per ore intere con tenerezza infinita aveva per lui delicatezze da innamorato gli prodigava a ogni occasione l'intero vocabolario delle espressioni tenere stringendogli la mano come si fa con il proprio amico guardandolo fissamente quando gli parlava piegando i punti dei suoi discorsi che potevano sembrare oscuri colmando la vita di quella bestia di cura dolcissime e di squisitissime premure e la scimmia c'estava calma come un dio che riceve l'omaggio dei suoi adoratori come tutti i grandi spiriti che vivono solitari perché la loro elevatezza li isola sopra al livello comune della stupidità dei popoli Eraclius sino a quel momento si era sentito solo solo nei suoi lavori solo nelle sue speranze solo nelle sue lotte e nei suoi smarrimenti solo infine nella sua scoperta e nel suo trionfo non aveva ancora imposto la sua dottrina alle folle non aveva neppure potuto convincere i suoi due amici più intimi il signor rettore e il signor decano ma dal giorno in cui ebbe scoperto nella sua scimmia il grande filosofo che aveva tanto spesso sognato il dottore si sentì meno isolato convinto che la bestia è privata della parola soltanto per punizione delle sue colpe passate e che per effetto dello stesso castigo è piena del ricordo delle sue esistenze anteriori Heraclius si mise ad amare ardentemente la sua compagna e in virtù di questo affetto si consolava di tutte le sventure che venivano a colpirlo da qualche tempo infatti la vita diveniva più triste per il dottore il signor decano e il signor rettore andavano a trovarlo molto meno spesso e questo gli faceva sentire intorno a sé un vuoto enorme essi avevano persino cessato di andare a pranzo da lui ogni domenica da quando egli aveva proibito di servire alla sua tavola ogni cibo che avesse avuto vita il cambiamento di regime era ugualmente per lui una grande privazione che assumeva a momenti le proporzioni di una vera angoscia lui che un tempo aspettava con tanta impazienza l'ora così dolce del desinare ora quasi la paventava entrava tristemente nella sala da pranzo sapendo bene che non aveva ad attendere più nulla di piacevole e aveva continuamente l'ossessione del ricordo delle quaglie allo spiedo che lo tormentava come un rimorso ahimè non si trattava del rimorso di averne divorate tante ma piuttosto nella disperazione di aver rinunziato ad esse per sempre nel quale il dottore scopre che la sua scimmia gli assomiglia più di quanto egli pensasse una mattina il dottore Ragius fu svegliato da un rumore insolito saltò giù dal letto si vestì in gran fretta e si diresse verso la cucina nella quale udiva grida e trapestì straordinari rimuginando nella mente da lungo tempo i più neri propositi di vendetta contro l'intrusa che le carpiva l'affetto del padrone la perfida honorin che conosceva i gusti e gli appetiti di quegli animali era riuscita mediante un'astuzia qualsiasi a legare solidamente con una corda la povera scimmia alle gambe della tavola di cucina poi quando si fu assicurata che era legata ben stretta si era ritirata nell'altra estremità della stanza e divertendosi a mostrarle il piatto prelibato più adatto a eccitare le sue brame e la le faceva subire il più spaventoso supplizio di tantalo che negli inferi deve essere inflitto soltanto a coloro che hanno enormemente peccato e la perversa governante si sganasciava dalle risa e immaginava raffinatezze di tortura che solo una donna è capace di concepire l'uomo scimmia si contorceva furiosamente alla vista delle vivande saporite che gli venivano presentate da lontano in rabbia di sentirsi legato ai piedi della massiccia tavola gli faceva eseguire mostruose smorfie che raddoppiavano la gioia della guzzino tentatora finalmente proprio nel momento in cui il dottore geloso padrone apparve sulla soglia la vittima di quell'orribile macchinazione riuscì con uno sforzo prodigioso a spezzare le corde che la trattenevano e senza il violento intervento dell'indignato eraclius dio sa quali le cornie si sarebbe pasciuto quel novello tantolo a quattro mani come il dottore si accorse che la sua scimmia l'aveva indegnamente ingannato questa volta la collera prevalse al rispetto e il dottore afferrando per la gola la scimmia filosofo la tracinò urlante nel proprio studio e le somministrò la più terribile punizione che mai abbia ricevuto il filo della schiena ad un metempsicosista quando il braccio stanco di eraclius allentò un po' la stretta alla gola della povera bestia colpevole soltanto di gusti troppo simili a quelli del suo fratello superiore essa si liberò della presa del padrone oltraggiato saltò oltre la tavola afferrò sopra un libro la grande tabacchiera del dottore e la scarventò spalancata sulla testa del proprietario quest'ultimo ebbe soltanto il tempo di chiudere gli occhi per evitare il turbine di tabacco che l'avrebbe certamente accecato ma quando li riaprì il colpevole era sparito portandosi via il manoscritto di cui era il presunto autore la costernazione di eraclius fu senza limiti ed egli si lanciò come un pazzo sulle orme del fuggitivo pronto ai maggiori sacrifici pur di recuperare la preziosa pergamena percorse la casa dalla cantina al solaio aprì tutti gli armadi guardò sotto tutti i mobili le sue ricerche rimasero assolutamente infruttuose finalmente andò a sedersi disperato sotto un albero in giardino gli sembrava da alcuni istanti di ricevere sul cranio dei piccoli corpi leggeri pensava che fossero foglie secche staccate dal vento quando vide una pallina di carta che ruzzolava davanti a lui sul viale la raccolse poi l'aprì misericordia era uno dei fogli del suo manoscritto levò la testa spaventato e scorse l'abominevole animale che preparava tranquillamente nuovi proiettili della stessa specie e così facendo il mostro ghignava con una smorfia di soddisfazione così spaventosa che satana non ebbe certamente una più orribile quando vide Adamo prendere il pomo fatale che da Eva sino a onorì le donne non hanno cessato di offrirci a quella vista un'orrenda luce si fece all'improvviso nella mente del dottore ed egli comprese di essere stato ingannato beffato abbindolato nella maniera più abominevole da quel furfante coperto di pelo che non era l'autore tanto desiderato più di quanto lo fosse il papa o il turco la preziosa opera sarebbe interamente sparita se Heraclius non avesse scorto accanto a sé una di quelle pompe per annaffiare di cui si servono i giardinieri per lanciare acqua nelle aiuole lontane la ferrò rapidamente e manovrandola con vigore sovrumano fece fare alla perfida un bagno talmente imprevisto che quella fuggì di ramo in ramo lanciando strilli e di botto con un'abile stratagemma probabilmente per ottenere un istante di tregua lanciò la pergamena stracciata in pieno viso al suo avversario allora abbandonando rapidamente la sua posizione corse verso casa prima che il manoscritto avesse colpito il dottore quest'ultimo ruzzolava sulla schiena con i quattro arti all'aria culminato dalla commozione quando si rialzò non ebbe la forza di vendicare quel nuovo oltraggio rientrò penosamente nel suo studio e constatò non senza piacere che soltanto tre pagine erano scomparse Eureka la visita del signor decano e del signor rettore lo trasse dalla sua prostrazione conversarono tutti e tre per un'ora o due senza dire una sola parola di metempsicosi ma nel momento in cui i suoi due amici se ne andavano Heraclius non poté contenersi più a lungo mentre il signor decano indossava il grande tabarro di pelle d'orso egli prese a parte il signor rettore di cui aveva meno soggezione e gli raccontò tutta la sua sventura gli disse come avesse creduto di aver trovato l'autore del suo manoscritto come si fosse ingannato come la perversa scimmia l'avesse beffato nella maniera più indegna come si vedesse abbandonato e disperato e davanti al crollo delle proprie illusioni Heraclius pianse il rettore commosso gli prese le mani si accingeva a parlare quando la voce grave del decano che gridava su via venite rettore risonò sotto il vestibolo allora costui dando un'ultima stretta di mano allo sventurato dottore gli disse sorridendo dolcemente come si fa per consolare un bambino capriccioso basta su calmatevi amico mio chissà forse siete voi stesso l'autore di quel manoscritto poi si immerse nell'ombra della via lasciando sulla porta e l'aclius stupefatto il dottore risalì lentamente nel suo studio marmorando tra i denti ogni momento sono forse l'autore del manoscritto rilesse attentamente la maniera in cui quel documento era stato ritrovato a ogni riapparizione del suo autore poi si rammentò come l'aveva scoperto lui stesso il sogno che aveva preceduto quel giorno beato come un avvertimento provvidenziale la sua commozione nell'entrare nel vicolo dei vie pigion tutto questo gli tornò alla mente chiaro distinto lampante allora si arse impettito distese le braccia come un illuminato ed esclamò con voce altisonante sono io sono io un brivido percorse tutta la sua dimora pitagora abbaiò violentemente le bestie disturbate si svegliarono di botto e si misero ad agitarsi come se ognuna nella propria lingua avesse voluto celebrare la grande resurrezione del profeta della metepsicosi allora in preda una commozione sovrumana eraclius si sedette aprì l'ultima pagina di quella nuova bibbia e religiosamente scrisse in continuazione tutta la storia della propria vita ego sum qui sum da quel giorno in poi eraclius glos fu invaso da un orgoglio colossale come il messia procede da dio padre così egli procedeva direttamente da pitagora o piuttosto era lui stesso pitagora avendo un tempo vissuto nel corpo di quel filosofo la sua genealogia sfidava così i quarti delle famiglie più feudali egli avvolgeva di superbo disprezzo tutti i grandi uomini dell'umanità e loro più alte gesta gli sembravano infime rispetto alle sue ed egli si isolava in un'elevazione sublime in mezzo alle genti e alle bestie egli era una metempsicosi e la sua casa ne diventava il tempio aveva proibito alla sua governante e al suo giardiniere di uccidere gli animali reputati nocivi i bruchi e le lumache pullulavano nel suo giardino e sotto la forma di grossi ragni dalle zampe pelose gli ex mortali portavano in giro le loro orride trasformazioni sui muri del suo studio e che faceva dire all'abobinevole rettore che se tutti gli ex scrocconi trasformati alla loro maniera si fossero dati appuntamento sul cranio del troppo sensibile dottore questi si guarderebbero bene dal fare la guerra a quei poveri parassiti degradati una sola cosa turbava Eraclius nel suo splendido giubilo e questo era il vedere senza posa gli animali divorarsi l'un l'altro i ragni aspettare al varco le mosche gli uccelli portare via i ragni i gatti divorare gli uccelli e il suo cane pitagora strangolare con gioia ogni gatto che passava a portata di dente egli seguiva dalla mattina alla sera la marcia lenta e progressiva della metempsicosi attraverso tutti i gradi della scala animale aveva improvvise rivelazioni osservando i passeri beccare nelle grondaie le formiche queste lavoratrici eterne e provvidenti gli cagionavano commozioni immense vedeva in esse tutti gli sfaccendati e inutili che per espiare la loro oziosaggine e la loro indolenza passate erano condannati a quel travaglio indefesso restava ore intere col naso nell'erba e a contemplarle ed era meravigliato del proprio acume poi come Nabucco Donosor camminava a quattro zampe si rotolava col suo cane nella polvere viveva con le sue bestie si avvoltolava con esse sul suolo per lui l'uomo spariva a poco a poco dal creato e ben presto vivide ormai soltanto le bestie allorché le contemplava sentiva proprio di essere loro fratello non conversava più se non con esse e quando per caso era costretto a parlare con uomini si sentiva paralizzato come in mezzo a estranei e si indignava dentro di sé della stupidità dei suoi simili quello che si diceva attorno al banco della signora Labone fruttivendola in via della marescerie 26 la signorina Victoire cuoca famosa del signor decano della facoltà di Balançon la signorina Gertrude domestica del signor rettore della detta facoltà e la signorina Anastasie governante del signor abate Beuflery curato di sante Eulalia tale era il rispettabile cenacolo che si trovava riunito un giovedì mattina attorno al banco della signora Labone fruttivendola in via della marescerie 26 queste signore tenendo sul braccio sinistro la cesta delle provviste con una cuffietta bianca posata con civetteria sui capelli adornata di trine e di cannoncini e i cui cordoni pendevano loro sulla schiena ascoltavano con interesse la signorina Anastasie che raccontava loro in quale modo proprio il giorno prima il signor abate Beuflery aveva esorcizzato una povera donna posseduta da cinque demoni all'improvviso la signorina Onorine governante del dottore Heraclius entrò come una ventata si lasciò cadere su una sedia soffocata da una commozione violenta poi quando vide tutti sufficientemente bramosi di sapere sbottò no questo è troppo insomma dicano pure quel che vogliono io non resterò in quella casa poi nascondendo il viso tra le mani si mise a singhiozzare dopo un momento un po' calmata riprese alla fin fine non è colpa di quel pover uomo se è matto chi? domandò la signora Labotte ma il mio padrone il dottore Heraclius rispose la signorina Onorine allora è proprio vero quello che diceva il signor decano che il vostro padrone ha perduto la testa interrogò la signorina Victoire altro che esclamò la signorina Anastasie il signor curato assicurava l'altro giorno al signor Abate Rosentrua che il dottore Heraclius era un vero reprobo che adorava le bestie sull'esempio di un certo signor Pitagora che pare è un empio abominevole quanto Lutero che c'è di nuovo? introdurpe la signorina Gertrude che vi è successo? figuratevi riprese Onorine asciugandosi le lacrime con la cocca del crembiale che il mio povero padrone da quasi sei mesi ha la frenesia delle bestie e mi metterebbe alla porta se mi vedesse ammazzare una mosca me che sono in casa sua da circa dieci anni va bene amare gli animali ma è anche vero che sono fatti per noi mentre il dottore non ha più considerazione per gli uomini vede soltanto le bestie crede di essere creato e messo al mondo per servirle parla loro come a persone ragionevoli e si direbbe che sente nell'interno di esse una voce che gli risponde insomma ieri sera siccome mi ero accorta che i topi mangiavano le mie provviste ho messo una trappola nella credenza stamani vedendo che c'era un topo imprigionato chiamo il gatto e stavo per dargli quel parassita quando il mio padrone entra come una furia mi strappa la trappola di mano e lascia fuggire la bestia in mezzo alle mie conserve e poi come io andavo in collera quello si rivolta e mi tratta come non si tratterebbe una cenciaiuola ci funga un silenzio per alcuni secondi poi la signorina honorine riprese alla fin fine non ce l'ho con quel pover uomo è matto due ore dopo la storia del topo del dottore aveva fatto il giro delle cucine di balançon a mezzogiorno essa era l'aneddoto del desinare dei borghesi della città alle otto il presidente della corte d'appello mentre beveva il caffè la raccontava a sei magistrati che avevano pranzato a casa sua e costoro in pose diverse e gravi l'ascoltavano pensosi senza sorridere scuotendo la testa alle undici il prefetto che dava un ricevimento se ne inquietava davanti a sei fantocci amministrativi e siccome chiedeva il parere del rettore che portava in giro di gruppo in gruppo le sue cattiverie e la sua cravatta bianca quello rispose tutto sommato che cosa dimostra questo signor prefetto che se la fontaine vi avesse ancora potrebbe fare una nuova favola intitolata il topo del filosofo e che finirebbe così il più animale dei due non è quello che si crede come qualmente il dottore eraclius non pensava per nulla come il delfino il quale avendo tratto dall'acqua una scimmia ve la rituffa e va a cercare un uomo da poter salvare il giorno dopo quando uscì eraclius notò che ognuno lo guardava passare con curiosità e che per di più si voltava per osservarlo l'attenzione di cui era oggetto sulle prime lo stupì ne cercò la causa e pensò che la sua dottrina si era forse divulgata insaputa sua e che egli era sul punto ad essere compreso dai suoi concittadini allora di botto gli venne una gran tenerezza per quei borghesi nei quali già vedeva discepoli entusiastici e si mise a salutare sorridendo a destra e a sinistra come un principe in mezzo al suo popolo i bisbigli che lo seguivano riparevano un mormorio di lodi ed era raggiante d'allegrezza pensando alla prossima confusione del rettore e del decano giunse così sino alle rive dell'abril a pochi passi un gruppo di bambini si agitava e rideva enormemente lanciando sassi nell'acqua mentre alcuni barcaiuoli che fumavano la pipa al sole sembravano interessarsi al gioco di quei monelli eraclius eraclius si avvicinò poi indietreggiò repentinamente come chi riceve una grossa botta sul petto a dieci metri dalla sponda ora affondando ora ricomparendo un gattino annegava nel fiume la povera bestiolina faceva sforzi disperati per raggiungere la riva ma ogni volta che mostrava la testa fuori dell'acqua un sasso lanciato da uno dei discoli che si divertivano a quell'agonia la faceva sparire di nuovo i monellacci greggiavano in abilità e si eccitavano l'un l'altro e quando un colpo ben assestato giungeva al misero animale sulla riva avveniva un'esplosione di risate e tra pestii di gioia all'improvviso un ciotolo tagliente colpì la bestia in mezzo alla fronte e un rivoletto di sangue apparve sui peli bianchi allora tra gli aguzzini esplose un delirio di grida e di applausi ma che si mutò ad un tratto in uno spaventoso timore panico livido tremante di rabbia rovesciando tutto davanti a sé colpendo coi piedi e coi pugni il dottore si era avventato in mezzo a quella marmaglia come un lupo in un branco di pecore lo spavento fu così grande e la fuga così rapida che uno dei bambini folle di terrore si gettò nel fiume e scomparve allora Heraclius si liberò prontamente della finanziera si tolse le scarpe e a sua volta si precipitò nell'acqua fu visto a nuotare vigorosamente alcuni istanti afferrare il gattino nel momento in cui spariva e tornare triunfalmente a riva poi si sedette su un paracarro asciugò baciò carezzò l'esserino che aveva appena strappato alla morte e avvolgendolo amorevolmente con le braccia come un figlio senza occuparsi del bambino che due barcaiuoli riportavano a terra indifferente al tumulto che cresceva dietro di lui se ne andò a gran passi verso casa dimenticando sulla sponda le scarpe e la finanziera questa storia lettora e mostrerà che quando si vuole proteggere il proprio simile dalle percosse quando si crede che sia meglio salvare un gatto che un uomo si provoca necessariamente lo sdegno dei vicini che tutte le strade possono portare a Roma e la mettere in psicosi al manicomio la stella di Balançon dopo due ore una folla immensa di gente che lanciava grida tumultuose si accalcava davanti alle finestre del dottore Eraclius Gloss ben presto una gragnuola di sassi spezzò i vetri e la moltitudine si accingeva a sfondare le porte quando i gendarmi apparvero in fondo alla via la calma si ristabilì a poco a poco finalmente la folla si disperse ma sino al giorno dopo due gendarmi rimasero di stazione davanti alla casa del dottore costui passò la serata in agitazione straordinaria si spiegava lo scatenamento della plevaglia con i sordi maneggi dei preti contro di lui e con l'esplosione di odio che provoca sempre l'avvento di una nuova religione tra i settari di quella vecchia si esaltava sino al martirio e si sentiva pronto a confessare la propria fede davanti ai carnefici fece venire nel suo studio tutte le bestie che quella stanza poteva contenere e il sole lo scorse che sonnecchiava tra il cane una capra e una pecora estringendo sul cuore il gattino che aveva salvato un violento colpo bussato alla porta lo svegliò e onorini introdusse un signore serissimo seguita da due agenti di pubblica sicurezza un po' dietro di loro si nascondeva il medico legale il signore serio si presentò come commissario di polizia e invitò cortesamente Heraclius a seguirlo costrui obbedì assai turbato una vettura aspettava la porta lo fecero salire dentro poi seduto accanto al commissario avendo di fronte il medico e un agente l'altro si era seduto a cassetta accanto al cocchiere Heraclius notò che seguivano la via di Juif la piazza del municipio il boulevard della Poussel e che si fermavano finalmente davanti a un grande edificio dall'aspetto tetro sulla porta del quale erano scritte queste parole ospizio per alienati egli ebbe all'improvviso la rivelazione del terribile tranello in cui era caduto capì la spaventosa abilità dei suoi nemici e raccogliendo tutte le sue forze tentò di precipitarsi nella via due mani possenti lo fecero ricadere al suo posto allora incominciò una lotta terribile tra lui e i tre uomini che lo custodivano egli si dibatteva si contorceva picchiava mordeva urlava di rabbia finalmente si sentì sopraffatto legato solidamente e trasportato nella funesta casa il cui portone si richiusa dietro di lui con un rumore sinistro lo introdussero allora in un'angusta cella d'aspetto singolare il caminetto la finestra e lo specchio erano muniti di solide inferriate il letto e l'unica sedia fortemente fissati all'intavolato con catene di ferro non vera alcun mobile che potesse essere sollevato e maneggiato dall'abitante di quella prigione l'evento dimostrò del resto che quelle precauzioni non erano superflue non appena si vide in quella dimora fatto nuova per lui il dottore cedette alla rabbia che lo soffocava tentò di spezzare i mobili di strappare le inferriate e di rompere i vetri vedendo che non poteva riuscirci si rotolò per terra lanciando urla così spaventose che due uomini vestiti di camici e con una specie di berretto da uniforme entrarono improvvisamente seguiti da un signore alto dal cranio calvo e tutto vestito di nero a un cenno di questo personaggio i due uomini si lanciarono su eraclius e in un attimo gli infilarono la camicia di forza poi guardarono il signore nero costui considerò per un istante il dottore e volgendosi verso i suoi accoliti alla sala delle docce disse eraclius fu allora trascinato in una stanzone freddo in mezzo al quale c'era una vasca senza acqua fu spogliato sempre urlante poi deposto in quella tinozza e prima che avesse avuto il tempo di raccappezzarsi fu assolutamente soffocato dalla più orribile valanga d'acqua gelida che sia mai caduta sulle spalle d'un mortale persino nelle ragioni più boreali eraclius repentinamente d'acque il signore nero lo considerava sempre gli prese il polso gravemente e poi disse un'altra una seconda doccia rovinò dal soffitto e il dottore si abbattè tremante strozzato soffocato in fondo alla gelida tinozza poi fu tirato fuori venne avvolto in coperte ben calde e colicato nel letto della sua cella dove dormì trentacinque ore ed un sonno profondo si svegliò il giorno dopo col polso calmo e la testa leggera riflettì alcuni istanti sulla sua condizione poi si mise a leggere il manoscritto che aveva avuto cura di portare con sé ben presto il signore nero entrò fu portata a una tavola apparecchiata ed essi fecero colazione a quattro occhi il dottore che non aveva dimenticato il bagno del giorno prima si mostrò assai calmo e assai garbato senza far parola del motivo che aveva potuto procurargli una simile disavventura parlò a lungo nella maniera più interessante e si sforzò di provare al suo ospite che era sano di mente quanto i sette savi della Grecia nell'andarsene il signore nero offrì a Heraclius di andare a fare un giro nel giardino dello stabilimento si esattava di una grande corte quadrata e alberate una cinquantina di individui vi passeggiavano gli uni gridendo gridando e declamando gli altri gravi e malinconici la prima persona che il dottore notò era un uomo di alta statura con una lunga barba e lunghi capelli bianchi che camminava solo a testa china senza sapere perché la sorte di quell'uomo li interessò e nello stesso momento lo sconosciuto sollevando la testa guardò fisso Heraclius poi andarono uno incontro all'altro e si salutarono serimoniosamente allora attaccarono discorso il dottore apprese che il suo compagno si chiamava Dagobert Felorm e che era professore di lingue moderne al collegio di Balanson egli non notò nulla di scassato nel cervello di quell'uomo e si domandava che cosa avesse potuto condurlo in un luogo simile quando l'altro fermandosi di botto gli prese la mano e stringendola forte gli domandò a voce bassa credete nella metempsicosi il dottore Barcolò balbettò i loro sguardi si incontrarono e per alcuni secondi entrambi restarono in piedi a contemplarsi alla fine la commozione vinse Heraclius alcune lacrime gli scaturirono dagli occhi egli aprì le braccia e si abbracciarono allora cominciarono le confidenze ed essi riconobbero ben presto che erano illuminati dalla stessa luce impregnati dalla stessa dottrina non era nessun punto in cui le loro idee non coincidessero ma a misura che constatava quella strabiliante similitudine di pensieri il dottore si sentiva invaso da uno strano malessere mi sembrava che quanto più lo sconosciuto ingrandiva ai suoi occhi tanto più egli stesso diminuisse nella propria stima la gelosia glielo sono io sono io che ho scoperto la legge delle evoluzioni delle anime sono io che ho sfrutato i destini degli uomini io fui pitagora il dottore si fermò di botto più pallido d'un sudario scusate disse pitagora sono io ma si guardarono di nuovo l'uomo continuò sono stato successivamente filosofo architetto soldato agricoltore monaco geometra medico poeta e marinaio anch'io disse eraclius ho scritto la storia della mia vita in latino in greco in tedesco in italiano in spagnolo e in francese gridava lo sconosciuto eraclius rimbeccò anch'io entrambi si fermarono e i loro sguardi si incrociarono aguzzi come punte di spada nell'anno 184 vociò l'altro abitavo a roma ed ero filosofo allora il dottore più tremante di una foglia sotto un vento temporalesco trasse di tasca il suo prezioso documento e lo brandì come un'arma sotto il naso dell'avversario quest'ultimo fece un balzo all'indietro il mio manoscritto urlò e tese il braccio per afferrarlo è mio mughiò eraclius e con una velocità strabiliante sollevava l'oggetto conteso sopra la propria testa lo cambiava di mano dietro la schiena gli faceva fare mille evoluzioni una più straordinaria dell'altra per sottrarlo alla caccia sfrenata del suo rivale quest'ultimo digrignava i denti pestava i piedi e mughiava ladro 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 alla fine riuscì con un movimento tanto rapido quanto destro a trattenere per una cima il documento che eraclius cercava di sottrargli per alcuni secondi ciascuno tirò dalla sua parte con pari collera e vigore poi siccome nell'uno nell'altro cedeva il manoscritto che serviva loro di legame fisico pose termine alla lotta saggiamente come avrebbe potuto fare il re salomone buonanima separandosi da sé solo in due parti uguali i che permise ai belligeranti di andare rapidamente a sedersi a dieci passi l'uno dall'altro ognuno stringendo sempre la sua mezza vittoria tra le mani contratte non si alzarono ma ripresero a squadrarsi come due potenze rivali che dopo aver misurato le loro forze esitano a venire di nuovo alle mani Dagobert Felhorn riprese per primo le ostilità la prova che sono l'autore di questo manoscritto disse sta nel fatto che lo conosco prima di voi Heraclius non rispose l'altro riprese la prova che sono l'autore di questo manoscritto sta nel fatto che posso recitarvelo da cima a fondo nelle sette lingue che hanno servito a scriverlo Heraclius non rispose meditava profondamente una rivoluzione avveniva in lui non c'era possibilità di dubbio la vittoria restava al suo rivale ma l'autore che gli aveva tanto invocato l'indignava ora come un falso dio essendo ormai lui stesso soltanto un dio spodestato si rivoltava contro la divinità finché non si era creduto l'autore del manoscritto aveva desiderato furiosamente di vederlo ma dal giorno in cui era arrivato a dirsi sono io che ho fatto questo la metempsicosi sono io non poteva più consentire che qualcuno prendesse il suo posto simile a quelle persone che bruciano la loro casa piuttosto che vederla abitata da un altro dal momento che uno sconosciuto saliva sull'altare che gli si era eretto lui bruciava il tempio e il dio bruciava la metempsicosi perciò dopo un lungo silenzio disse con voce lente grave siete pazzo a queste parole l'avversario si slanciò come un forsennato e si sarebbe ingaggiata a una nuova lotta più terribile della prima se i guardiani non fossero accorsi e non avessero ricondotto i due rinnovatori di guerra religiose nei loro rispettivi domicili per circa un mese il dottore non uscì di camera passava le giornate solo la testa tra le mani profondamente assorto il signor decano e il signor rettore andavano a trovarlo di tanto in tanto e dolcemente mediante paragoni abili e delicate allusioni assecondavano il lavoro che avveniva nel suo spirito così lo informarono come un certo Dagobert Felhorn professore di lingua al collegio di Balanson fosse impazzito scrivendo un trattato filosofico sulla dottrina di Pitagora Aristotele e Platone trattato che egli si immaginava ad aver cominciato sotto l'imperatore commodo finalmente una bella mattina di sole radioso il dottore ridiventato lui l'eraclius dei bei tempi strinse con ardore le mani dei suoi due amici e annunziò loro che aveva rinunciato per sempre alla metempsicosi alle sue esperienze animali e alle sue trasmigrazioni e che si batteva il petto riconoscendo il proprio errore otto giorni dopo le porte del manicomio erano aperte davanti a lui come talvolta si cade dalla padella nella brace nell'uscire dalla casa fatale il dottore si fermò un istante sulla soglia e respirò a pieni polmoni l'aria aperta della libertà poi riprendendo il passo svelto di un tempo si mise in cammino verso il suo domicilio procedeva da cinque minuti quando un monello che lo scorse lanciò all'improvviso un fischio prolungato al quale rispose subito un fischio simile che veniva da una strada vicina un secondo ragazzaccio arrivò immediatamente di corsa e il primo indicando eraclius al suo compagno gridò con tutto il fiato che aveva ecco qui l'uomo delle bestie che è uscito dal manicomio e tutti e due marciando in cadenza dietro al dottore si misero a imitare con abilità notevole tutti i versi di animali conosciuti una tozzina ad altri discoli non tardarono a unirsi ai primi e formarono all'ex metempicicosista una scorta tanto rumorosa quanto sgradevole uno di loro procedeva dieci passi davanti al dottore leggendo a guisa di bandiera un manico di scopa in cima al quale aveva attaccato una pelle di coniglio trovata probabilmente accanto a qualche paracarro altri tre venivano immediatamente dietro simulando rulli di tamburo poi compariva il dottore stravolto il quale stretto nella grande finanziera col cappello calato sugli occhi sembrava un generale in mezzo al suo esercito dietro di lui l'orda dei discoli correva sgambettava saltava sulle mani strillando mughiando abbaiando miagolando nitrendo mugendo chiacchierando e immaginando mille altre cose scherzose per il massimo divertimento dei borghesi che si affacciavano alle porte eraclius sgomento affrettava sempre di più il passo improvvisamente un cane che gironzolava gli capitò fra le gambe un'ondata di collera salì al cervello del dottore ed egli allungò un calcio così tremendo alla povera bestia che un tempo avrebbe accolto che questa fuggì via urlando di dolore una spaventosa acclamazione esplose intorno a eraclius il quale perdendo la testa si mise a correre con tutte le sue forze sempre inseguito dal suo infernale codazzo la masnada passò come un turbine per le principali vie della città e venne a infrangersi contro la casa del dottore costui vedendo la porta socchiusa vi si precipitò e la richiusa dietro di sé poi sempre correndo salì nello studio dove fu ricevuto dalla sua scimmia che si mise a fargli le linguacce in segno di benvenuto quella vista lo fece indietreggiare come se uno spettro gli si fosse parato davanti agli occhi quella scimmia era il ricordo vivente di tutte le sue disgrazie una delle cause della sua follia delle umiliazioni e degli oltraggi che aveva dovuto sopportare afferrò uno scavello di quercia che si trovava a portata di mano e con un solo colpo spaccò il cranio del misero quadrumane che stramazzò ai piedi del suo assassino poi confortato da quell'esecuzione egli si lasciò cadere su una poltrona e sbottonò la finanziera uno rincomparve allora e fu lì per svenire di gioia scorgendo eraclius dalla contentezza saltò al collo del suo signore e lo baciò su entrambe le guance dimenticando così la distanza che separa agli occhi della gente il padrone dalla domestica della qualcosa si diceva il dottore le aveva dato un tempo l'esempio tuttavia l'orta dei monelli non si era affatto dispersa e continuava a fare davanti alla porta un chiasso così tremendo che eraclius spazientito scese in giardino lo spettacolo orribile lo colpì honorine chiamava veramente il padrone pur deplorando nella follia aveva voluto preparargli una gradita sorpresa quando fosse tornato a casa e la aveva vigilato come una madre sulla vita di tutte le bestie precedentemente raccolte in quel luogo di modo che grazie alla fecondità comune di tutte le razze ed animali il giardino presentava allora uno spettacolo simile a quello che doveva offrire quando le acque del diluvio si ritirarono all'interno dell'arca in cui Noè raccolse tutte le specie viventi era un ammasso confuso un pullulare di bestie sotto le quali alberi macchie erba e terra scomparivano i rami piegavano sotto il peso di reggimenti d'uccelli mentre di sotto cani gatti capri pecore galline anatre e tacchini si rotolavano nella polvere l'aria era piena di clamori diversi assolutamente simili a quelli che lanciava la marmaglia attruppata dall'altra parte della casa a quella vista eraclius non si contenne più si precipitò su una vanga abbandonata contro il muro e simile ai guerrieri famosi di cui Omero racconta le gesta balzando ora avanti ora indietro colpendo a dritta e a manca con la rabbia in cuore lavava alla bocca e gli fece un orrendo massacro di tutti i suoi inoffensivi amici le galline atterrite volavano via oltre i muri i gatti si arrampicavano sugli alberi nessuno ottenne grazia in suo cospetto la confusione era indescrivibile poi quando la terra fu coperta di cadaveri egli cadde infine dalla stanchezza e come un generale vittorioso si addormentò sul campo della carneficina il giorno dopo essendogli scomparsa la febbre volle provare a fare un giro per la città ma non appena ebbe varcato la soglia della porta i monelli in agguato sugli angoli delle vie li inseguirono di nuovo gridando l'uomo delle bestie l'amico delle bestie e ripresero le grita del giorno prima con variazioni innumerevoli il dottore rincosò precipitosamente il furore lo soffocava e non potendo prendersela con gli uomini giurò odio inestinguibile e guerra accanita a tutte le razze di animali da quel momento ebbe ormai soltanto un desiderio soltanto uno scopo soltanto una preoccupazione costante uccidere bestie si aspettava al varco dalla mattina alla sera tendeva reti in giardino per prendere uccelli trappole nelle grondaie per strangolare i gatti del vicinato la sua porta sempre succhiusa offriva carni appetitose alla ghiottoneria dei cani che passavano e si richiudeva pruscamente appena una vittima imprudente soccombeva alla tentazione ben presto si levarono lamentele contro di lui da tutte le parti il commissario di polizia andò più volte in persona a intimargli di cessare quella guerra accanita il dottore fu subissato di processi ma nulla arrestò la sua vendetta infine l'indignazione fu generale una seconda sommossa scoppiò nella città ed egli sarebbe stato probabilmente fatto a pezzi dalla moltitudine se non fosse intervenuta la forza armata tutti i medici di balançon furono convocati in prefettura e dichiararono all'unanimità che il dottor Heraclius Gloss era pazzo per la seconda volta di nuovo egli attraversò la città tra i due agenti di pubblica sicurezza e vide richiudersi dietro di sé la pesante porta della casa sulla quale era scritto ospizio per alienati come qualmente il proverbio quanti più matti siamo tanto più ci si diverte non è sempre esattamente vero il giorno dopo egli scese nel cortile dell'ospedale e la prima persona che si offrì al suo sguardo fu l'autore del manoscritto metempsicosista i due nemici camminarono l'uno verso l'altro squadrandosi un crocchio si formò intorno a loro Dagobert Felorn esclamò ecco l'uomo che ha voluto sottrarmi l'opera della mia vita rubarmi la gloria della mia scoperta un mormorio percorse la folla Eraclius rispose ecco colui che pretende che le bestie sono uomini e che gli uomini sono bestie poi tutte e due contemporaneamente si misero a parlare a poco a poco si eccitarono e come la prima volta vennero ben presto alle mani gli spettatori li separarono da quel giorno con una tenacia e una perseveranza meravigliose ognuno si diede a crearsi dei settari e poco tempo dopo l'intera colonia era divisa in due partiti rivali entusiasti accaniti e talmente irreconciliabili che un metempsicosista non poteva incontrare uno dei suoi avversari senza che ne seguisse un combattimento terribile per evitare scontri cruenti il direttore fu costretto ad assegnare ore di passeggiata riservate a ogni fazione poiché mai odio più tenace non aveva animato due sette rivali dopo la famosa contesa dei guelfi e dei ghibellini grazie del resto a quel prudente provvedimento i capi di quelle fazioni nemiche vissero felici amati ascoltati dai loro discepoli obbediti e venerati talvolta nella notte un cane che urula geronzolando attorno ai muri fa sussultare nei propri letti Eraclius e Dagobert è il fedele Pitagora che sfuggito per miracolo alla vendetta del padrone ne ha seguito la traccia sino alla soglia della nuova dimora e cerca di farsi aprire le porte di quella casa in cui solo gli uomini hanno diritto di entrare in cui la traccia è la traccia di la traccia di la traccia di Grazie a tutti